Non vincibili guerrieri, valenti conduttieri, votati lì nel corpo, alle di misferi, per divertire santi, per esser cavalieri, al sostenuto prove di rara crudeltà. Ma ormai è giunto il momento, chi vincerà l'armatura del cielo? Sarà scontri sopraumani, duelli decisivi, che decideranno chi, l'armatura indosserà, è un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte d'ora è il fine, tra tutti e il mio frate. Chi sarà mai? 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 Adesso, vai! Chi viene? Vai! Sono i cavalieri della azionaria, quando sono importanti, sono grandi e forti noi, tutti indecisi e segnali, c'è, ma solo una, la fine, potrà trionfare, sono i cavalieri della azionaria. Un applauso ad Arianna Palumbo, grazie! Vada, posso dire la verità? Questo è un costume che lascia il segno. No, ci tengo!